Angelo Branduardi, Paolo Rossi, Arturo Bracchetti, Max Angioni, Roberto Mercadini, Harlem Gospel, Cioir, poi il concerto di Capodanno e il grande ritorno del balletto alla Spezia con il Lago dei Cigni. Sono solo alcuni degli spunti offerti dal Teatro Civico che questa mattina ha presentato gli spettacoli extra abbonamento per la stagione 2022-2023. Il sindaco Peracchini, la dirigente Ghiri e il direttore artistico Maggi hanno illustrato i dettagli e le novità di quest'anno. Domani riparte la stagione ufficiale con l'autoproduzione del Civico con lacrime elettriche. Noi continuiamo il nostro percorso di valorizzazione del Teatro Civico, di mettere al centro la cultura in tutte le sue dimensioni della vita della nostra città e lo facciamo con spettacoli di livello nazionale. Già il cartellone del teatro di quest'anno è un cartellone veramente eccezionale, a questo si aggiungono i grandi eventi, concerti, comici e poi anche dal lato i gospel, i balletti, il concerto di fine anno e poi il trasformista più bravo al mondo, Arturo Brachetti. L'obiettivo di quest'anno, anche per gli spettacoli extra abbonamento, sarà riflettere ma anche ridere, senza perdere il gusto del classico. Chiaro è il messaggio che arriva anche dalla grafica, il teatro è un mondo a colori. È uno splendido edificio, è anche se grigio fuori, ma nella grafica noi l'abbiamo fatto rendere appunto a colori proprio per dire che la diversificazione degli eventi, degli spettacoli per ogni tipo di pubblico, un pubblico che ama i concerti, un pubblico che ama la danza, un pubblico che ama la prosa che fa sorridere e al tempo stesso un pubblico, come dire, anche più giovane, perché per esempio nel cartellone di extra abbonamenti abbiamo anche talenti come Roberto Mercadini, senza poi dimenticare il pubblico per così dire tradizionale con i grandi concerti classici, dei classici cantautori come Fabio Concato, Angelo Branduardi e naturalmente i comici di livello nazionale da Max Angioni a Manera, Leonardo Manera e anche a Paolo Rossi che non è soltanto un comico ma è veramente un attore straordinario. Grazie a tutti.